Qui si può veramente parlare di Santi come eroi perché c'è un sovvertimento totale rispetto alla pittura religiosa precedente e questa commissione gli viene affidata grazie anche ai suoi rapporti con il Cardinal Montalto a Roma, con Pallavicini che era amico di Giacomo Serra che a sua volta era legato agli oratoriani e poi al legame che lui stesso stabilisce con Baronion, questo personaggio legato proprio a un concetto etico e rivoluzionario del nuovo cattolicesimo. La commissione per la Chiesa Nuova era importantissima perché si trattava della decorazione dell'abside della Chiesa Nuova, dell'altare maggiore e lui stesso ne dà la notizia ai Gonzaga attraverso una lettera al segretario e gli afferma che offrendosi dunque la più bella e superba occasione di tutta Roma mi spinse zelo d'onor a prevalermi della mia sorte e quindi questa è la Chiesa senza dubbio oggi di più celebrata e frequentata di Roma perché bisogna dire che questa sua fortunata occasione di diventare pittore di corte dei Gonzaga gli consente una grande libertà di movimento gli consente di viaggiare per l'Italia gli consente di andare a Firenze a presenziare al matrimonio di Maria dei Medici di andare in Ispagna dove farà il ritratto del Duca di Lerma e quindi è una possibilità in più bisogna dire che Rubens veramente incarna quella serie di circostanze fortunate di cui parla Kubler nella forma del tempo per cui perché un artista riesce a svettare in una sequenza di altri artisti rispetto ad altri per tante ragioni in cui entra anche moltissimo oltre al talento la casualità e la fortuna casualità che vuole che l'artista si debba trovare nel momento giusto nel posto giusto e riuscire a entrare in contatto con i personaggi che contano Rubens è a Roma siamo dopo l'anno giubilare a Roma ha lavorato Caravaggio e Carracci Barocci nella Chiesa Nuova ci sono tutte queste opere e quindi è veramente un museo è un'occasione unica e di fronte per dimostrare la sua capacità la sua bravura la sua volontà di fare una grande opera esegue questa che non è un bozzetto perché poi sarà diverso e non è un'opera preparatoria è come una sorta di presentazione di far vedere di che cosa è capace è un quadro grandioso meraviglioso che si trova a Berlino e che raffigura San Gregorio protettore della Chiesa Nuova tra i martiri Papia e Mauro a sinistra con Santa Domitilla a destra la grandezza innanzitutto questa composizione a salire a canocchiale che lui fa con questi tre gradini che accompagnano verso l'arco sul fondo l'arco trionfale con i resti del palatino quindi una romanità suggerita poi è incredibile la figura di San Gregorio con il vento che gli gonfia la veste candida che sembra veramente di marmo questo San Gregorio possente e gigantesco che accampa tutto il centro della scena e i due martiri che altro non sono che due soldati due guerrieri romani presi davvero dalle sculture che sono oggi ai musei capitolini e portati anzi trasportati nel quadro a destra è una matrona e vediamo poi i riscontri Domitilla con questa veste in cui veramente il virtuosismo della tecnica è incredibile perché ci dà la consistenza della seta del raso di seta la pesantezza della seta e nello stesso tempo oltre che una santa è veramente una signora una matrona una poderosa figura femminile lo ripete questa figura ricorre poi e questa è una derivazione che si trova a Bergamo all'Accademia Carrara qui se non ci fosse la palma nella mano destra di Santa Domitilla potrebbe essere una matrona un ritratto di una figura femminile quindi c'è sempre il suggerimento dell'elemento religioso però superato dall'inserimento del personaggio classico qui addirittura c'è una figura di matrona romana che ha un'acconciatura molto molto simile a quella di Domitilla e che è messa proprio per un confronto quando presenta questo quadro piace piace perché in effetti c'è tutto quello che serviva c'è la novità ma c'è anche l'essenza sacra della sostanza e quindi gli affidano il quadro per l'altare centrale un quadro che oggi si trova a Grenoble alto 4 metri che bellissimo ma assolutamente non adatto a stare nella chiesa nuova perché innanzitutto è su tela e nella chiesa nuova c'è un finestrone enorme nella controfacciata da cui esce una luce dannata luce la chiama appunto Rubens una luce che cancella l'immagine inoltre per inserire tutti i personaggi quindi anche la madonna votiva della chiesa nuova che in questo bozzetto non c'era e che era un'immagine ovale e una figura di vergine con i cherubini Rubens fa un quadro ricco irto di personaggi non va bene e lui stesso sempre facendo conto su quella capacità di incassare addirittura è così disinvolto che si mette subito a pensare come cambiare e pensa a un quadro in orizzontale per fare entrare tutti i personaggi questo è una sorta di idea che poi non sarà realizzata ma questo ci fa capire come lui stesso fosse capace appunto in prima persona di proporre quell'ideale stoico per cui di fronte alle difficoltà si va avanti e quello che poi realizza è un trittico un trittico accostato un po' ribadendo l'idea del grande quadro di Mantova ovvero sia quello di comporre in orizzontale di comporre attraverso una visione spaziale dinamica per cui è come se si passassero la mano tutti i personaggi si intrecciassero tra loro e nello stesso tempo però ci sono tutte le figure che gli oratoriani vogliono perché ecco abbiamo a sinistra Mauro e Papiano sempre due grandi soldati romani qui forse ancora più possenti perché proprio con le loro teste ricciute da ritratto romano e le loro corazze lucenti il santo è più vecchio ma ha la stessa disposizione magniloquente e al centro il trionfo della Madonna della Vallicella in questa idea geniale che gli viene di creare un ovale e dentro al quale c'è la fresco antico un'idea che poi sarà ripetuta da Bregel da tanti altri maestri di quadri di fiori con inserti di quadri religiosi e poi questo gruppo questo gruppo di angeli in tre diverse sequenze giganteschi oppure soltanto teste di angeli oppure appunto a grappolo che scendono e poi a destra di nuovo Domitilla sempre nella sua veste di raso e qui abbiamo la giunta di Nereo e Achilleo due santi ai quali erano estremamente devoti ed era devoto baronio erano santi di quei primi martiri cristiani di un cristianesimo primitivo che è anche molto in linea con la visione di Rubens quindi un quadro meraviglioso e grandioso che propone che cosa una visione concitata drammatica però sontuosa vogliamo dire anche profana quasi dell'arte ed ha una ricaduta che dopo quella di Caravaggio è la più importante perché in maniera chiara semplicissima fa capire come l'arte religiosa andasse in maniera irrefrenabile verso una visione appunto mondana e assolutamente accattivante verso una secolarizzazione quindi un modo più moderno e soprattutto capace di attrarre e questa è la grande novità di Rubens poi lui questa figura femminile la riprende anche se vedete nell'estrema sinistra la fanciulla che ha per mano il piccolo bambino è la stessa ritroviamo gli angeli in alto questa è la circoncisione che lui farà per la chiesa di Rubens in anni pressoché uguali coevi a Genova quel piccolo fanciullo che si tiene la manina in bocca viene ripetuto poi da Pietro da Cortona nel bambino del trionfo di Bacco ai Capitolini quindi è tutta una serie di rimandi Lanfranco in questa bellissima pala di Caprarola del convento dei Carmelitani accoglie l'idea Lanfranco è un grande stimatore di Rubens accoglie l'idea del santo che si dilata con la sua veste in orizzontale dell'arco sul fondo dei resti del palatino e della concitata visione drammatica di tutti i personaggi che poi accentuerà nella sua cupola di Sant'Andrea della Valle il grande Cristo trionfante risorto di Pitti appena restaurato anche qui qui è più evidente ancora la assonanza con la scultura classica con il torso del Belvedere che per Rubens l'aveva disegnato molte volte ed era un riferimento che rielabora proprio perché non è una posizione stante ma è una posizione sbilanciata disarticolata mossa e per questo stimola la sua creatività e anche il fatto che questa figura fosse stata così apprezzata da Michelangelo che lui stesso considerava un punto di riferimento ineguagliabile ricorre moltissimo questo Cristo appena restaurato ha fatto scoprire nelle spighe che si vedono sulla pietra da cui poggia il piede la foglia d'oro della pittura e ci fa vedere anche qui un Cristo muscoloso un Cristo possiamo dire molto umano ma soprattutto molto dinamico molto diverso ovviamente dalla figura statica o la figura che possiamo immaginare e anche qui è tutto un gioco di tecnica sapientissima tra i bianchi i grigi i rossi e il restauro ne ha ovviamente stimolato la la percezione i quadri i tre quadri della chiesa nuova anche quelli poi hanno una ricaduta probabilmente sulla visione ambientale e dinamica dello spazio per Bernini e sono poi un punto di riferimento assoluto anche per altri pittori lui stesso però da questo successo ha una seconda commissione ed è per una chiesa di fermo la chiesa di san filippo a fermo ed è la grande pala dell'adorazione dei pastori anche questa è stata restaurata di recente ed è un quadro grandioso che finito nel 1608 a giugno quando sappiamo che lui a ottobre lascia l'Italia rappresenta davvero l'ultima opera eseguita in Italia e diventa davvero riassuntiva di tutto quello che aveva visto di tutto quello che aveva appreso e di come lo aveva rivissuto e cosa aveva significato per lui è un quadro a lume notturno meraviglioso che raffigura l'adorazione dei pastori e che venne commissionato su raccomandazione dei padri oratoriani di Roma a quelli di fermo e loro dissero che addirittura lo trattavano da pittore italiano mi sono accordato con il pittore che ha eseguito il nostro quadro per l'altare maggiore è un fiammingo ma da putto allevato a Roma non è assolutamente vero perché arriva che ha 23 anni però la percezione della sua italianità è così forte a quel tempo che addirittura lo definiscono tale e non ci meraviglia che negli anni 50 Berenson lo inserisce tra i pittori italiani lo codifica tra i pittori italiani qui c'è fortissimo ed evidentissimo lo stimolo di Caravaggio però rispetto per questa capacità di utilizzare la luce e questo contrasto tra luci e ombre però ciò che è in Caravaggio è estremamente drammatico ed è anche pauperistico qui al contrario ciò che è pauperistico viene definito in maniera regale quindi il pastore per esempio al centro abbigliato di rosso che tra l'altro si rifà a una famosa scultura degli uffizi ha questo manto quasi da senatore questo volto nobilissimo questa muscolatura possente quindi è veramente un personaggio regale e che accampa tutto il primo piano del quadro la vergine poi ha una bellezza che è insieme carnosa e marmorea quindi è di marmo da scultura ma è vitale completamente ed ha questa porcellana anzi meglio questo alabastro che viene illuminato dal bambino che è il fulcro di tutta la rappresentazione dal punto di vista luministico e il bambino visto da vicino è veramente incredibile perché è realizzato come un piccolo grumo di pigmento con i piedini e le mani appena abbozzate che però sono perfettamente rispondenti a quello che ci immaginiamo mentre poi c'è questo gioco sofisticatissimo delle due mani della vergine che scoprono il velo bianco raffinatissime e meravigliose e che vanno a contrasto con la mano della figura femminile la fantesca più anziana con la mano al centro quindi è un gioco e la mano possente poi del pastore questo del gioco delle mani che secondo me è anche un divertimento per Rubens ricorre spessissimo il pastore a sinistra quasi non si vede ma anche lui è grandioso accecato dalla luce che viene dal bambino e gli angeli in alto a grappolo sono un ricordo di Tintoretto del miracolo dello schiavo di questa idea dell'angelo che non va verso l'alto ma che scende impicchiata verso il basso e poi la luce questo lume notturno così stupefacente ora la differenza Rubens conosceva un quadro di Correggio che è importantissimo e che a monte della sua pittura è il punto di riferimento è la notte di Correggio che oggi si trova a Dresda ma che era a Reggio Emilia nella chiesa di San Prospero questo è una copia di un pittore del Settecento Nogari ed è perfettamente rispondente è evidente che anche qui Rubens ha preso l'idea del pastore a sinistra che si spaventa quasi della luce l'idea della vergine con il bambino che emana luce e il grappolo di angeli in alto prima di tutto qui è un notturno pacato non è un notturno drammatico come quello di Rubens è un notturno quasi elegiaco gli angeli sono morbidamente sfumati verso l'alto e non in picchiata soprattutto la vergine non è una statua o una sorta di niobe ma è una fanciulla dolcissima e meravigliosa e poi c'è questo primo piano di natura così esuberante questa capacità del dettaglio e di inserire quindi il mondo della natura nella rappresentazione religiosa quindi c'è tutta una tendenza più elegiaca che Rubens assolutamente cancella nella sua elaborazione tonante possiamo dire davvero e poi c'è e questo è molto importante la riedizione di Pietro da Cortona Cortona frequenta giovanissimo la chiesa nuova assieme al suo maestro Baccia Sciarpi e e vediamo che ha una capacità di cogliere anche lui l'idea del tramonto se non il notturno e poi del bambino centro di tutto e della stessa carnosità della Vergine che è statuaria insieme ma anche estremamente vitale e carnale e poi quest'idea del Tempio Classico che in questo caso appunto riprende la chiesa nuova la sua educazione i primissimi anni 1613 14 15 avviene proprio lì ed è un'educazione fatta di lavoro preghiera e pittura e quindi per lui Rubens sarà un maestro continuo come poi vedremo nella volta di Pietro da Cortona del Salone Barberini la sezione del sacro si chiude con una anticipazione assoluta anche qui di Bernini una maddalena di Lille che per la prima volta è vista in un'estasi molto terrena molto carnale molto una maddalena che si rifà in parte al prototipo perduto di Caravaggio a quella di Finçon e però con questa figura intera in deliquio ci dà proprio l'impressione dell'estasi quella che poi veniva dai testi classici della Santa Teresa e questi due angeli anche qui come dire muscolosi e poderosi che danno a questa raggera che arriva dall'alto e che Bernini ripropone invece nella raggera della scultura della cappella appunto di Santa Maria della Vittoria addirittura questa estasi si ritrova nel bozzetto di Santa Teresa che è al museo di Palazzo Venezia quindi veramente un'anticipazione in questo quadro prima del 20 che è estremamente accattivante grazie grazie grazie